Ciao Astronomers! Una delle nuove funzioni dell'Eagle 6 Computer for Telescopes è la gestione di light-out, una intervista di hardware dedicata che ti permette di collegare remotamente con l'Eagle indipendentemente dal sistema operativo Windows. Questo significa che puoi collegare con l'altro dispositivo, controllare il status del sistema e anche tornare l'Eagle su o offre remotamente senza bisogno di pressare fisicamente il potere, come servizi nei centri datacenters professionisti. In modo da fare questo, hai un porto dedicato che ha un plug internet. Normalmente dovresti usare un cable internet per attivare l'OM. In questo video invece voglio mostrare come potete attivare la gestione di light-out dell'Eagle usando un punto di attività semplice e affidabile compatto wireless. Quindi, cominciamo! La gestione di light-out è una delle funzioni più potenti dell'Eagle 6. Anche quando l'Eagle è fermata, l'OM resta attiva, pronta per rispondere a domande remoto. Tu solo hai bisogno di mantenere la unità di potenza o batteria connetta con l'Eagle. Questo può essere incredibilmente utile, specialmente se stai usando l'Eagle in un observatorio remoto, o se vuoi semplicemente iniziare la tua sessione di astrofotografia senza andare fuori nel freddo, per attivare le cose manualmente. Ora, a default, l'OM necessita una connessione di network, per essere accessibile. E, ovviamente, la forma standard è con una connessione di attività. Questo può essere facile da fare se hai un observatorio remoto. Ma non sarebbe bello di rendere l'OM accessibile anche per una connessione di attività? Questo è facile solo da connessione di attività di attività compatta con l'Eagle LOM e lo riuscire proprio sul tuo telescopio. Ho usato l'AMAP-Lite da MicroTip, una connessione di attività compatta e leggera che puoi potere con 12V. È abbastanza piccolo per essere montato sull'Eagle o attaccato in un'altra parte del telescopio. Ma, ovviamente, puoi usare qualsiasi simile wireless device che crea una scuola tra un network wifi e l'Eagle LOM, soltanto che puoi impostare la scuola correttamente. Prima di tutto, bisogna configurare la scuola di wireless. I passi possono valutare a dipendere del modello specifico, quindi ricordatevi sull'User Manual. Inoltre, ci sono alcune suggestioni generali che applicano alla maggior parte dei modelli. Assigni al wireless interface un SSID che facilmente ricorda l'OM. Per esempio, il nostro Eagle è Eagle 6 Pro 0001, quindi chiederò l'OM Wi-Fi network Eagle 6 Pro 0001-LOM. Activate un servizio DHCP e lo bindere alla interface wireless. Assigni una IP statica dentro della classica di servizio DHCP al wireless interface e una IP statica dentro della classica di servizio LOM all'interfaccia dell'internet. Addia il corretto gateway nella configurazione di servizio DHCP. Se altre networche sono presenti sul tuo punto di accesso, potrebbe essere utile aggiungere un NAT per l'interfaccia dell'internet. Inoltre, bisogna controllare come poter portare il punto di accesso. Se ti usi l'Eagle in una installazione di osservatori, dove l'Eagle è sempre collegato a una potenza di potenza di 12V, potrai portare il punto di accesso usando la unità di potenza, collegata con un plug di potenza di indipendente dell'osservatore. Se il tuo punto di accesso è disponibile con il porto di potenza di potenza di 12V, potrai anche connetterlo a uno dei porti di potenza di potenza di potenza dell'Eagle. Assolutamente assicurati che configurate le impostazioni avanzate dell'Eagle Manager X, dopo l'inizio e prima di uscire, per mantenere il porto di uscire anche quando uscire l'Eagle all'inizio della sessione. In questo modo, il porto continua a lavorare e puoi connetterlo con l'Eagle all'Eagle, anche quando l'Eagle è fuori. Alternativamente, se ti usi un sistema portabile portabile, puoi poter portare il punto di accesso di wireless con connetterlo a una batteria di 12V, se è disponibile con un porto USB. porto. Questo assicura che il porto di wireless sia attivo e pronto per dare accesso all'Eagle l'Eagle, quando necessitato. Una volta che il porto è benvenuto connesso, connetterlo e connetterlo all'Eagle dell'Eagle, puoi connetterlo con il suo network wifi con il tuo telefono, computer desktop, tablette, smartphone, telefono, entrare l'IDLOM IP in un browser e tu avrai capito per controllare il tuo status dell'Eagle, anche se il Windows non è avvicinato. Questo permette anche di poter portare all'Eagle, come si è disponibile, e iniziare la tua sessione remota. In questo modo, puoi usare l'interfaccia di Eagle Manager X per poter portare il vostro montaggio, camera e tutti gli altri accessori telescopi che poter portare via l'Eagle. È una forma rapida e facile di ottenere il tuo telescopio pronto per la tua sessione astrofotografia. Questa settimana ti dà la libertà di controllare il tuo sistema di telescopio più efficiente, con più cabli e non necessario di attestare fisicamente l'Eagle ogni volta che iniziare una sessione. Per più contenuti che aiutano a esplorare l'Universo come un pro, abbiatevi al nostro canale e... Clear skies! A presto!